Erano le 8 del mattino quando è scattato il blizzi degli uomini della Guardia di Finanza. I militari delle Fiamme Gialle hanno fatto incursione nella sede del lato idrico, nella zona industriale di Agrigento, per acquisire documenti relativa ad una serie di controlli fiscali al fine di cercare riscontri con i dati acquisiti nella verifica in corso presso la Girgenti Acque. Nei mesi scorsi un'operazione analoga aveva interessato il consorzio Trestorgenti di Canicattì. Anche in quella sede i militari della Guardia di Finanza si erano attivati alla ricerca di irregolarità fiscali su IVA e imposte sui redditi della società. Gli enti che gestiscono il servizio idrico per il loro funzionamento si avvalgono oltre che di fondi privati della società anche di risorse pubbliche.